ciao a tutti siete pronti per una nuova avventura tra libri oggi vi mostrerò il mio book haul 2023 in questo video vi presenterò due collaborazioni il resto dei libri sono acquisti di seconda mano sono certa che come me anche voi siete degli accumulatori di libri e non riuscite a resistere alla tentazione di acquistare sempre qualcosa di nuovo è un po come una dipendenza ma come si può resistere al fascino di un buon libro quindi senza ulteriori indugi iniziamo questa presentazione e vi invito a seguirmi in questo viaggio tra le pagine dei libri che andranno ad abitare la mia libreria non avevo il coraggio di vivere di matteo priora dell'edizione catartica dal prezzo di 16 euro questo libro l'ho già letto è una collaborazione ne parlerò più approfonditamente nel miei libri letti a marzo e adesso vi voglio leggere solo la quarta di copertina e anche se tutto il mondo intorno considerava sbagliato e disumano quel legame che tra noi due andava nascendo anche se la nostra relazione veniva giudicata malata e guasta etichettata come uno spettacolo da censurare come una canzone che non doveva essere cantata io con lui al mio fianco non mi ero mai sentito così sano così giusto così umano così reale un libro interessante un'altra collaborazione un libro che sto leggendo in questo momento è genitori di se stessi mindfulness and repairing scusate la pronuncia ma faccio proprio schifo di nicoletta cinotti dell'enrico damiani editore al prezzo di 17 euro anche di questo ve ne parlerò nel video di libri letti a marzo adesso vi leggo solo le prima le prime righe della quarta di copertina quando ci sentiamo mancare la terra sotto i piedi e cerchiamo disperatamente qualcosa a cui aggrapparci possiamo imparare a guardare la nostra vulnerabilità da un'altra prospettiva e riscoprire l'intimità con noi stessi la pretesa di essere sempre stabile e l'illusione di avere tutto sotto controllo non tengono conto di quanto la nostra identità sia poliedrica e ospiti istanze infantili adolescenziali parti protettive e parti reattive aspetti esilianti e repressi che chiedono ascolto e che una volta ascoltati ci restituiscono nuova energia devo ammettere che un libro che arriva nel momento giusto nella mia vita ammetto che mi sta facendo veramente molto bene poi ho preso di patrick magrat un attore che amo particolarmente grottesco edito ad elfi e l'ho presa di seconda mano e l'ho pagato credo sui 4 5 euro non ne conosco la trama quindi vi leggo la quarta di copertina sir hugo koal non è mai stato un filantropo anche quando non vegetava sulla sede a rotelle aveva la tendenza a considerare gli esseri umani meno comprensibili ed elegante dell'enorme scheletro di sauro che andava pazientemente ricostruendo ma quello che vede ora nella sua vita nei rari momenti in cui i suoi familiari non lo costringono a fissare una parete gli piace ancora meno è chiaro che l'ambico maggiordomo sta ordendo una sua trama assai sinistra di quella trama la moglie la figlia e sir hugo stesso fanno più o meno consapevolmente parte quel che è meno chiaro è in che modo sir hugo possa usare l'unica arma peraltro letale che gli resta il suo sguardo fisso di lucertola non vedo l'ora di leggerlo ma un attore che mi piace in modo particolare una vita sottile di chiara gamberali edito la feltrinelli l'ho pagato intorno alle 8 euro e 50 non è di seconda mano è nuovo chiara gamberali racconta la storia di una ragazza che lotta contro una terribile forma di anoressia e bulimia dopo aver perso se stessa nella malattia chiara l'autrice del romanzo capisce che per ritrovare la propria identità deve guardare alle persone che la colpiscono attraverso i suoi legami con gli altri come l'amicizia con emiliano la professoressa ricca il cane jonathan e i diaretti scritti con l'amica cinzia chiara riesce a riemergere dal dolore ea ritrovare la propria essenza non lo so perché ho preso questo libro forse perché era stato consigliato da qualche booktoker sempre della stessa autrice ho preso zona la zona cieca anche questo edito feltrinelli l'ho preso di seconda mano sull'ibraccio e credo di averlo pagato intorno ai 6 euro il romanzo racconta dell'incontro tra lidia una contuttrice radiofonica che ha imparato a convivere col dolore e lorenzo uno scrittore narcisista che vive ingannando se stesso gli altri nonostante le differenze i due si sentono attratti l'uno dall'altro e scoprono parti di sé che ignoravano tuttavia la loro relazione diventa complicata perché lorenzo mente tradisce e lidia diventa ossessiva in questo scenario entra in gioco brian un ex musicista che con le sue lettere riesce a creare un'empatia tra i due portandole a riflettere sui loro problemi praticamente è un crescente di situazioni tragico comiche questo mi incuriosisce ancor di più rispetto a una vita sottile ammetto che sono stata dietro a 4321 di polaster da da quando è uscito è un libro che volevo acquistare sin da subito ma il suo prezzo insomma è un rene e quindi ho aspettato atteso 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 e finalmente l'ho preso di seconda mano è delle edizioni e nauti e credo che l'ho pagato intorno alle 8 euro non penso di più non ricordo molto bene comunque libro segue quattro diverse versioni della vita del protagonista ognuno delle quali si sviluppa in un modo diverso a secondo delle scelte delle circostanze che lo influenzano non vedo l'ora di leggerlo ma siccome questo è un mattonazzo e ho già in lettura un altro mattonazzo devo aspettare un pochino prima di me di leggerlo però non vedo proprio l'ora io che amo solo te di luca bianchini edito mondadori e anche questo l'ho preso di seconda mano e l'ho pagato intorno ai 6 euro una donna di 50 anni vede la figlia fidanzarsi con il figlio del suo grande amore il matrimonio diventa un evento importante per la città e tutti gli occhi sono puntati sui genitori degli sposi la festa è minuziosamente pianificata ma una serie di eventi imprevisti e personaggi comici creano caos perché prendo questo libro perché me ne parlano molto bene una mia collega in particolare appena uscito lei l'ha letto e perché mi dà l'idea di qualcosa di leggero di una lettura che sicuramente affronterò nel momento in cui ho il blocco del lettore ho la sensazione che mi possa aiutare in quei momenti particolari la madre di eva di silvia ferreri della neo edizioni e anche questo l'ho pagato intorno ai 6 euro questo sicuramente è un libro molto molto toccante non vado a leggere tutta la trama perché non voglio creare non voglio fare dei spoiler per me stessa perché poi che poi mi toglie curiosità e vabbè quando io non ho curiosità poi dopo il libro rimane lì sulla libreria navita e quindi vorrei vorrei che ciò non accadesse perché sono molto 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 interessata a questa lettura comunque poco poco ne parlo nel senso che leggo la trama la cerco su google leggo solo le prime le prime righe la storia è quella di una ragazza eva che a 18 anni si sottopone ad un intervento chirurgico per diventare uomo sesso nel quale si è sempre riconosciuta ma che la natura le ha negato sono proprio curiosa ultimo libro di questo bucola ma sicuramente non per importanza è io sono di legno di giulia carcasi edito filtrinelli anche questo di seconda mano e l'ha pagato intorno alle 4 euro una madre e una figlia la figlia tiene un diario e la madre lo legge alla storia di anaffettività di sentimenti negati o traditi dalla giovane mia giulia risponde con la propria storia segnata da quell'essere di legno che sembra la malattia il tormento di entrambe e come se madre e figlia si scrutassero da lontano o si spiassero immobilizzate da una troppa severa autocoscienza bisogna tornare indietro di questi libri che ho presentato questo sicuramente è libro che leggerò per primo perché in questo periodo ho bisogno di capire alcuni stati d'animo alcuni comportamenti per una storia mia personale familiare sono entusiasta di condividere con voi questo bucola questo viaggio mi ha mostrato un mondo senza limiti dove la lettura diventa una forma d'arte le parole prendono vita davanti ai nostri occhi ho scoperto che leggere non è solo un modo di passare il tempo ma anche un modo per immergersi in mondi fantastici quindi continuiamo a girare pagine e a scoprire nuovi mondi perché come ha detto una volta carl saganna un libro è un trampolino per l'immaginazione baci e abbracci a tutti e ci risentiamo al prossimo video grazie a tutti